Bentornati ragazzi in un nuovo video. Come avrete già visto sul canale è uscito un altro video che è quello dei migliori film del 2020. Oggi invece guarderemo i peggiori film di questo anno. Un anno particolare che mi ha costretto, tra virgolette, un pochettino a cambiare le regole per queste liste di fine anno. Ricordiamo che non sono delle classifiche, non è una top, i film sono tutti a pari merito. E infatti quest'anno considereremo come sempre le date di uscita italiane, però al cinema ci sono andati poco. Quindi considererò oltre che i film in streaming anche i film che sono usciti in Blu-ray, in DVD, quindi per long video durante questo 2020. Oggi andremo a vedere i film peggiori e lo specifico non sono per forza i film più brutti oggettivamente. Qua di oggettivo non c'è niente, c'è solo il mio parere e il vostro nei commenti perché ovviamente aspetto poi di sapere quali sono i film che secondo voi non vi sono piaciuti di più rispetto ad altri. I film più deludenti perché appunto i film che ho inserito qua sono principalmente quelli che mi hanno deluso di più. Alcuni mi hanno veramente schifato, ma altri sono magari film anche validi e che sono piaciuti molto ma che a me, per motivi ovviamente personali, soggettivi, mi hanno deluso. Bene, finita questa introduzione, iniziamo. Partiamo dal primo film che è un film italiano, qua lo so che mi spareranno tutti. Lo trovate sia su NowTV che su Prime Video. Film diretto dai fratelli di Innocenzo ed è Favolace. Io lo so, molti hanno amato questo film, un film particolare, ambientato in questa periferia romana dove i personaggi hanno comportamenti strani, particolari, grotteschi, molto malati, che infastidiscono. Però io, diciamo, tutta questa innovazione, tutta questa particolarità che in molti hanno ravvisato, io non ce l'ho vista. O meglio, ho visto il tentativo e l'ho apprezzo assolutamente. Ci sta che qualcuno in Italia cerchi di fare qualcosa di diverso. Però non mi è arrivato. Tutta questa distorsione della realtà, questo voler essere strano, l'ho trovato un po' forzato. La mano è troppo calcata e il film, secondo me, è troppo costruito. Si vede la mano dello sceneggiatore quando invece non si dovrebbe vedere. E questo purtroppo mi ha deluso perché mi aspettavo un grande film, un po' particolare, ma questo per me non è avvenuto. Mi spiace, ovviamente so che a molti è piaciuto e capisco anche il perché, ma proprio a livello emotivo non mi ha colpito. Probabilmente, siccome è un film molto complesso, colpisce ognuno di noi in maniera diversa e a me ha colpito poco. Il prossimo film, mi dispiace inserirlo perché è un horror diretto da Liguo, un attore regista che ha partecipato nella saga di Saw, nella saga di Insidious, ha collaborato con James Bond, uno dei padri dell'horror post 2000, secondo me. E cavolo, mi aspettavo qualcosa di interessante. In questo L'Uomo Invisibile, la storia di questa donna, interpretata da Kate Moss, attrice con la quale io non vado molto d'accordo, però è sicuramente brava, che divorzia da questo marito violento, sia fisicamente che, diciamo, psicologicamente, e lui continua a perseguitarla facendo finta di essere morto, rendendosi invisibile. Non sto tanto a dirvi perché mi ha deluso, perché è un film di fantascienza un po' assurdo, con tantissime banalità, tante cose scontate, interessante alcune scene dove si sfrutta l'invisibilità del personaggio in maniera anche molto brutale, è un film sicuramente brutale e questa è una cosa positiva. Però manca di sostanza, manca di una sensazione finale interessante e l'azione che all'inizio può essere interessante poi sfocia veramente in un casino, non si capisce niente, quindi non mi ha assolutamente convinto. Ora, io so che qua veramente mi impiccheranno probabilmente, ve l'ho messo alla gogna, però a me Piccole Donne di Greta Gerwig non è piaciuto. Non sto dicendo che è un brutto film, assolutamente, ma non ci trovo questo spessore, ma con tutti i film di Greta Gerwig, Lady Bird, tanto zannato, finita gli Oscar, anche questo è finita gli Oscar, sinceramente non ci vedo questa grande profondità. Ci sono film come Piccole Donne molto più interessanti, Orgoglio e Pregiudizio, quello con Keira Knightley, è uno dei miei preferiti, uno dei miei film preferiti. E anche qua c'è più o meno lo stesso tema di rivalsa femminile in costume, ok? Quindi nel passato di Piccole Donne, ma non ho trovato la profondità giusta per un film che racconta uno dei libri più importanti della letteratura mondiale, penso. E quindi veramente non ho trovato l'atmosfera, i costumi ci sono, ma non basta secondo me questo per fare un film in costume. Devi inserire l'atmosfera, i personaggi parlano ma non sembrano parlare nel passato, sembra un linguaggio moderno, e questa cosa non mi è piaciuta assolutamente, ma non moderno come concezione, ok? Moderno proprio nel modo di parlare. Non sentito l'atmosfera del costume, c'era ma non mi ha pervaso, ok? E questa secondo me è una cosa sbagliata, perché i film in costume devono partire da quel concetto. Deve essere un film che rispetta i canoni storici, per immergerti in quell'atmosfera, se stai facendo un film in costume classico, come vuole essere secondo me Piccole Donne. La regia della Gerwig non la trovo assolutamente ispirata, non la trovo particolarmente interessante, in certi momenti mi ha veramente annoiato. Si circonda di grandi attrici, Florence Fugue, bravissima, piuttosto che Saoirse Ronan, che assolutamente è brava, però quando lavora con la Gerwig a me non piace. Mi sembra che ci sia anche Bob Oden, Kirk, Mellie Streep, Laura Dern, c'è chiunque in questo film, ma comunque non riesce ad eccellere. I temi moderni, ok, per l'epoca, di Piccole Donne non riescono ad arrivare, secondo me, a un punto di completezza. Solo sul finale, il tema principale della protagonista, che riesce a capire che l'amore non per forza deve tarpare i suoi sogni, in quanto donna, questo tema importantissimo arriva solo nel finale, e arriva bene, ma per tutto il resto del film è trattato così, in maniera sommaria. Il film gira sempre intorno agli argomenti, gira sempre intorno agli eventi, senza mai concretizzarsi e realizzarsi. Non mi è piaciuto proprio neanche a livello di montaggio, non crea un ritmo giusto, non crea, diciamo, delle sospensioni che ti fanno andare avanti, che portano avanti l'interesse dello spettatore. Non è un brutto film, è un normale film in costume, sicuramente non da Oscar, e sicuramente non da grande cinema. Perché lo metto qua? Perché mi ha deluso, perché mi aspettavo di più, perché è stato zannato da tutti, perché è finito agli Oscar, scemo io ovviamente, che mi sono fatto grandi aspettative, però non sono state ripagate. Parliamo adesso di The New Mutants, probabilmente uno dei film che è stato rimandato più volte nella storia di tutto il mondo. Doveva uscire tre anni fa, è uscito il trailer due o tre anni fa, se non mi sbaglio, e finalmente riescono a rilasciarlo. Si vede che è un film a metà, si vede che è un film che ha avuto tantissime problematiche, che è stato tagliato, rimaneggiato, che ha subito l'acquisizione della Fox da parte della Disney, ed è uscito non un disastro, ma comunque non un film particolarmente interessante. Racconta di questi mutanti inseriti all'interno dell'universo degli X-Men, che vengono rinchiusi, diciamo, in questo istituto, dove cercano di aiutarli a controllare i propri poteri. Però non ci siamo. L'unica cosa bella di questo film è Anya Taylor-Joy, un'attrice fantastica, e qua lo dimostra, con un personaggio particolare che mi è piaciuto e che lei gestisce bene. Per il resto, tutti gli altri attori veramente da scartare. C'è Maisie Williams, c'è uno dei protagonisti di Stranger Things, non mi ricordo mai come si chiama, ma non mi sono piaciuti, è veramente regia poco interessante, Josh Boone, mi sembra si chiama il regista, ci prova ma non ci riesce. Si vede che, proprio a livello di montaggio, gli hanno tolto qualcosa nella Final Cut, perché si vede che mancano dei pezzi, mancano proprio dei pezzi di trama. Si capisce quello che succede, ma mancano dei momenti che ti fanno andare avanti nella storia in una maniera sensata, in una maniera narrativamente coerente. Peccato, perché poteva essere una cosa interessante, un horror cinecomic pieno di azioni, così non è stato, è un mezzo disastro, più che altro una forte delusione, soprattutto perché lo aspettavo con ansia. Ma ora parliamo di un film di Netflix, e qua verrò assolutamente di nuovo impiccato. A me Monk di David Fincher non è piaciuto, lo so, verrò, ripeto, squagliato vivo, ma mi piace ovviamente dire la verità e dire quello che penso. Grande regista thriller che ha fatto capolavori come Seven, Gone Girl, che secondo me è il suo film migliore, piuttosto che Social Network, Fight Club, Millennium, tanti altri, cerca di fare un qualcosa di diverso, un film biografico su lo sceneggiatore, Mank appunto, ovvero Herman Mankiewicz, non so come si pronunci, sceneggiatore di Quarto Potere, di Orson Welles, uno dei film considerati tra i migliori, se non il migliore, di tutta la storia del cinema. Però è proprio qua il problema, secondo me. Mank vive praticamente, quasi esclusivamente, dell'ombra di Quarto Potere. Cerca in tutti i modi di essere simile a Quarto Potere, solo perché parla di Quarto Potere, e questo secondo me non va bene. Io l'ho visto con una persona che non ha mai visto Quarto Potere e non ci capiva niente, e lo trovava molto scollegato e poco interessante. Io lo trovavo un po' più interessante, ma l'ho trovato poco geniale. Non è un brutto film, poi comunque ti prende, la storia ti interessa e scorre via. Però non è quel grande film che mi aspetterei da David Fincher. L'errore più grande che compie è proprio voler assomigliare in tutto per tutto a Quarto Potere ed avere un piede nel passato. È un film girato in bianco e nero e con il suono che ricorda l'imperfezione del suono del passato, e secondo me questo però non serve. Soprattutto perché è un film nato per Netflix. Al cinema avrebbe reso sicuramente, ma si vede che è un film con un obiettivo tecnico ampio, ma che viene messo in scatolato in un servizio streaming da vedere su uno schermo. Più o grande che sia, più o meno grande che sia, ma comunque sempre uno schermo. E questo si vede perché è una forzatura, una forzatura perché ci vogliono essere continui richiami al passato, continui richiami a Quarto Potere, che però sono un po' gratuiti. Il film secondo me doveva vivere di un'anima propria e non sulle spalle, tra virgolette, di uno dei più grandi film della storia del cinema. Gary Oldman sicuramente bravissimo, una performance sensazionale, il suo personaggio è interessante, ripeto, il film in generale è interessante, non è totalmente banale, ma rispetto alle aspettative che avevo, perché di David Fincher e perché un qualcosa di diverso sulla filmografia di questo regista, mi aspettavo molto di più e sono rimasto molto molto deluso e a volte anche annoiato. Bella la visione, la riproposizione del mondo cinematografico dell'epoca, però effetto nostalgia troppo troppo calcato, troppo costruito. Fine a se stesso, secondo me, in molti punti. Secondo me Fincher voleva fare un po' come ha fatto Tarantino con C'era una volta a Hollywood, ma ha tirato fuori troppo se stesso, cioè si è tirato fuori troppo dal film in quel senso. C'è poco David Fincher. Non è che mi aspettassi il thriller, perché questo voleva essere più un commedia biografico, e sinceramente, però, lo stile del regista non lo vedo. L'avesse diretto qualsiasi altra persona, non lo avrei notato. Quest'anno, ve l'ho detto, ve l'ho messo all'agonia, perché ho inserito tantissimi film che sono piaciuti. Anche qua, di nuovo, parliamo di un film che lo trovate su una TV, e si intitola Judy, che racconta la storia di Judy Garland, attrice e cantante del mondo, dello spettacolo e del cinema. Intorno agli anni 40 è l'attrice che da ragazza, perché racconta appunto la sua vita da adulta, i suoi eccessi, le sue problematiche da adulta, derivate appunto dallo sfruttamento che hanno fatto di lei quando era ragazza, è l'attrice che ha interpretato la protagonista nel famoso mago di Oz, appunto, degli anni 40, interpretata da Renée Zellweger, attrice che, secondo me, non è assolutamente grandiosa, qua è brava, però quello che manca in questo film è una visione un po' diversa. È l'ennesimo film biografico su un personaggio del mondo, dello spettacolo, che ha sofferto e che quindi continua a soffrire. E personalmente non l'ho trovato particolarmente fresco. È banale, prende questo tema, lo mostra in una maniera già vista, con pochi spunti interessanti. È anche abbastanza diretto bene da Rupert Gould, spero sia questa la pronuncia, però manca di spunti interessanti, mi ha annoiato in molti momenti. bello vedere come l'industria cinematografica sfruttava i divi in quel momento, soprattutto una ragazza. Però tutto quello che viene dopo, i suoi problemi d'adulta con i figli, problemi di alcolismo, eccetera, problemi di salute, non l'ho trovato trattati in una maniera interessante. Me ne fregava veramente poco di quello che stavo vedendo e questa sicuramente non è una cosa positiva. Non si arrisco qua perché, ripeto, l'ennesimo film che è stato zannato, finito agli Oscar, finito su, finito giù, mi aspettavo grandi cose, ma non sono arrivate. Trattato bene il tema dello sfruttamento fisico e della salute della protagonista, ma tutto il resto, secondo me, non funziona assolutamente. Parliamo di un altro film italiano, diretto da Giacomo Cimini, Il talento del calabrone. L'ho trovato su Amazon, anche qua dovevo uscire in sala, poi è finito su Prime Video. E ragazzi, a me spiace dirlo, ma anche questo è un film che è piaciuto a molti, ma a me mi ha deluso. È un thriller che prova a essere diverso, racconta di questo pazzo che mette sotto scacco la redazione di una radio, minacciando di far saltare in aria vari punti di Milano, se, diciamo, i protagonisti della radio chiudono la chiamata. Premesse interessanti, idea sicuramente diversa, il regista Giacomo Cimini ci prova all'inizio, sembrava avere anche una regia interessante, e poi mille banalità. Attori come ad esempio la Anna Foglietta, che diciamo ci propone una recitazione, che ovviamente anche la regia degna di quelle serie sui carabinieri, sulla polizia, su non so cos'altro, l'investigatore tizio, eccetera, della RAI, veramente orrenda, con una recitazione veramente esagerata, con scene di azione, diciamo, veramente assurde, da imbarazzanti. Non può esistere una cosa così nel 2020. Non puoi rivedere una scena del genere e pensare che sia qualcosa di, non di bello, ma che qualcosa di nuovo. Vuoi fare il film nuovo? Fallo fino in fondo. E questo mi spiace, capisco l'intento, però non c'è stata, secondo me, non dico impegno, però una volontà di arrivare fino in fondo e compiere veramente, e realizzare un film veramente fresco fino in fondo. Anche Sergio Castellito, che interpreta questo pazzo protagonista, osannato da tutti, a me non è piaciuto. Veramente stereotipi, ma tutto gas. Il tipico serial killer, pacato, con scatti d'ira, che ascolta musica classica. Cioè, più banale di questo cosa c'è? Cercate di fare qualcosa di diverso e qua assolutamente non avviene. Poi, non vi dico come viene descritto il mondo dei giovani. Ve lo giuro, non siamo così. Non siamo così. Guardate questo film, ma io ho 23 anni, ma non sono così. Vi giuro che, veramente, come spesso accade, le dinamiche del mondo social, del mondo dei giovani, vengono trattate malissimo. Ci facciamo sempre una figura pessima, ma non è la verità quella, ok? E anche gli altri protagonisti, veramente attori, non vi dico, con performance dimenticabilissime, ok? Poco spessore. Sì, ci sono alcune cose interessanti, però tutto molto telefonato, tutto spesso molto prevedibile. Caratterizzazione dei personaggi, soprattutto le serial killer, fatta in maniera sommaria. Ci sono dei personaggi imbarazzanti, non sto a descriverveli, perché ci metterei delle ore, e motivazioni che muovono i personaggi altrettanto banali, o meglio, proposte in maniera banale. E' uno di che film che poteva essere interessante sotto ogni punto di vista, ma nello svolgimento, nella messa in scena, è disastroso. Ovviamente, ripeto, apprezzo l'intento, ma doveva esserci, secondo me, più attenzione. Rivedendolo, chi ne era incaricato doveva rendersi conto che non andava bene, che era qualcosa troppo italiano, come direbbe Stannis di Boris. Troppo, veramente, italiano e troppo già visto. Ma già visto su emittenti televisive, come la Rai, e quelle cose lì, non già visto nel grande cinema. Finiamo con The Boy 2, la maledizione di Brahms. Lo trovate su Amazon Prime Video, diretto da Willa Brent Bell. Perché vi parlo di questo film? Perché avevo visto il primo capitolo e era carichino accettabile uno di quegli horror che ti puoi vedere con gli amici. Questo potete vederlo con gli amici se volete ridere, scherzare, sulle assurdità, sulla prevedibilità del film, sulla banalità. Di nuovo, film sulle bambole, sulle bambole assassino, comunque su, su, sulle bambole horror. È il secondo capitolo di un film che racconta di questa famiglia che chiama questa tizia ad accudire il loro figlio e poi il loro figlio è una bambola. E qua viene raccontato di questa famiglia di nuovo che prende sta bambola e se la ritrova in casa. Ragazzi, ma l'abbiamo già vista una cosa così? Sì, mille volte viene riproposta sempre nella stessa maniera, con ancora più banalità e cose veramente insensate, assurde, che non fanno paura, che non spaventano, che non mettono ansia, che non fanno niente. Quindi veramente, se volete vederlo, ve lo consiglio, per, così, tra amici, per farvi delle risate, per passare, così serate con quegli horror beceri di poco conto. Altrimenti, assolutamente, saltate, andate da un'altra parte. Eccoci qua, ho finito la mia rassegna di film peggiori o più deludenti di quest'anno, sicuramente ci sono titoli su cui discutere molto, fatemi sapere il vostro parere nei commenti, non uccidetemi per le mie scelte, ma questo è il mio parere, aspetto il vostro nei commenti, ditemi cosa ne pensate. Un 2020 con tante delusioni, per fortuna che ci sono stati tanti altri bei film che mi sono piaciuti. Uscirà fra pochi giorni, proprio a proposito di questo, il film, il video, scusate, sui film consigliati, quindi altri film che non sono i migliori, visto che quel video è già uscito, ma comunque che sono dei film interessanti che secondo me meritano di essere visti. Vi aspetto fra pochi giorni, ci vediamo appunto nel prossimo appuntamento, grazie tantissimo per l'attenzione. Ciao ragazzi! Grazie!